Marco Donati che si è presentato alle ultime elezioni con questa lista civica Scelgo Arezzo, stamani mattina presenta questo progetto che, diciamolo, molto ambizioso, prova a prendermi un dialogo con i giovani della città. Non deve essere semplice? No, non deve essere semplice ma deve essere un obiettivo a cui questa comunità deve tendere. In questi giorni abbiamo parlato di un conflitto tra alcune zone della città, un conflitto non in termini pratici ma in termini però reali rispetto a molti giovani che frequentano la parte della città legata a quella che viene chiamata cosetta movita e molti dei residenti. In questo conflitto spesso mancano le istituzioni. Dobbiamo dare ai giovani un indirizzo, dobbiamo chiedere a loro risposte che servono per questa città e avere da loro magari un giudizio su cosa questa città non va. Abbiamo pensato, ovviamente Covid permettendo e eventualmente questa iniziativa verrà posticipata se non ci verrà consentito di organizzarla, domani saremo in Piazza della Badia dalle 22 di sabato alle 24 e daremo ai giovani un piccolo questionario da compilare su cosa vogliono dalla città. Una risposta istituzionale per chiedere un coinvolgimento diretto dei più giovani e capire se possiamo fare qualcosa di più per loro in questa comunità retina che insomma sente il bisogno riguarda il futuro con più ottimismo. I giovani che hanno bisogno di essere coinvolti hanno bisogno di essere anche ascoltati. Sì questo sicuramente è un settore quello dei ragazzi che non deve essere visto come un problema ma sicuramente è una criticità che va affrontata ed ascoltata, va portata comunque nei giusti tavoli e noi abbiamo il dovere di porci questo obiettivo quindi di portare questa criticità e quindi di affrontarla. Ora sottoporremo questo questionario, sarà fondamentale anche capire cosa ne viene fuori grazie al supporto di alcuni psicologi e grazie a questo cercheremo poi di capire dove possiamo arrivare con le nostre capacità. materialmente che cosa verrà fatto? Circa due ore in piazza della Badia ovviamente rispettando tutte le normative anti-covid per circa due ore dalle 22 alle 24 con un gruppo di persone ai giovani che si presenteranno o che magari sostano in quella zona passando dal centro proviamo a sottoporre un piccolo questionario dove gli chiediamo cosa gli interessa della città, quali sono le cose che vogliono da questa comunità e ovviamente un questionario anonimo e poi ne faremo oggetto anche di intervento politico nei prossimi consigli comunali.